1604, un anno cruciale negli studi galileiani, nel pieno appunto dei 18 anni che passa a Padova. Nel 1604 c'è la lettera a Paolo Sarpi in cui Galileo comunica la legge di caduta dei gravi, quella che noi chiamiamo la cinematica del moto uniformemente accelerato e poi c'è la prima osservazione astronomica ancora senza cannocchiale, siamo appunto nel 4, 5 anni prima che Galileo entrasse in possesso del cannocchiale. Cosa succede nel 1604? Le persone stavano guardando, siamo intorno a ottobre del 1604, stavano guardando una posizione precisa del cielo dove doveva crearsi una congiunzione, era attesa una congiunzione, cioè un avvicinamento di più pianeti dovevano allinearsi Giove, Saturno e Marte. Quindi tutte le persone, sia i ricchi, sia i colti, sia il popolo, stavano guardando quella regione di cielo. All'improvviso, quindi tutti sapevano quali erano i punti luminosi in quella regione di cielo, all'improvviso nasce un bagliore enorme che poi diventerà simile diciamo alla luminosità di Venere. Nel giro di due settimane dal nulla viene fuori questo enorme bagliore e poi per più di un anno piano piano si attenua la luce in cielo. Dove sta questa luce e perché è nato qualcosa in cielo che non si vedeva prima? Un'analoga situazione di quella che noi chiamiamo oggi Stella Nova, sono esplosioni di supernova che conosciamo oggi bene ma all'epoca ovviamente non lo si sapeva, era stata osservata nel 1572 da Tico Brache e anzi era stato un evento ma non così partecipato come quello del 4 e nel 600 c'era stata un'altra osservazione di Dylan Bloch, un danese ma anche questa più in sordina. Quello che invece succede nell'ottobre del 4 è qualche cosa che ha un clamore sia in Italia e a Padova sia nel resto d'Europa. Perché questa cosa è così strana? Perché appunto nella concezione dominante dell'epoca, quella aristotelica, si pensava che dalla luna in poi fosse il mondo della perfezione, tutti gli oggetti fossero formati da una quintessenza creata a inizio da Dio ed eterna e che i moti fossero perfetti moti circolari e sotto la luna invece ci fosse lo spazio del mondo terrestre formato in cui i corpi erano formati essenzialmente da quattro elementi, aria, acqua, terra, fuoco. A seconda della composizione di queste eventuali mescolanze, i corpi si muovevano in linea retta o verso l'alto come il fuoco o verso il basso, verso il centro della terra, come i corpi in cui terra e acqua erano i costituenti principali. E solo in questa zona sublunare era il mondo della generazione corruzione. Quindi non era possibile che qualcosa nascesse in cielo perché appunto questo avrebbe in qualche modo impedito al meccanismo complicato di sfere in rotazione messe in piedi da Aristotele e dalla scuola aristotelica di funzionare, questa era la convinzione dell'epoca. Quindi una concezione del cosmo che si scontrava con un'evidenza di questo genere. In gioco c'era una credenza millenaria che però era diventata o era stata fatta propria dalla Chiesa Cattolica, quindi discutere di questo è un grosso problema. Siccome Galileo a Padova, proprio da questa cattedra, insegnava in quell'epoca teoriche dei pianeti, gli viene chiesto di fare delle lezioni. Galileo era uno che insegnava con grande successo, sicuramente una persona che sapeva ben comunicare, e le teoriche dei pianeti erano proprio una questione che attegneva in qualche maniera alla nuova evidenza osservativa. E la cosa veramente interessante è che queste lezioni fatte qui al Boi in Aula Magna furono due o tre lezioni fatte intorno a novembre del 1604, più di mille persone parteciparono a queste lezioni e il tema su cui centrò le sue argomentazioni Galileo non era tanto su di che cosa è fatta questo oggetto, è una stella, è una quasi stella, no, dove sta? Si può fare, utilizzando la matematica, delle misure esatte di parallasse, come veniva appunto chiamata da allora in poi, come si fa ancora oggi, per determinare la posizione della stella, sotto la luna o sopra la luna? E Galileo dimostra che è sopra la luna. Di queste lezioni purtroppo ci rimane pochissimi frammenti e una bozza di lettera dove dice Galileo, sto scrivendo su questa cosa un sistema del mondo, eccetera, e ho una fantasia che però potrò verificare solo tra sei mesi. Si può supporre, congetturare quale fosse la fantasia galileiana, quella di poter fare una misura sullo stesso corpo celeste, visto da una parte della, diciamo, da un estremo dell'ellisse che compie la luna, della Terra intorno al Sole, dove io vedo la stella oggi, se la stella affievolisce la sua luminosità perché sta migrando verso l'alto, una delle congetture galileane, quando io mi troverò tra sei mesi nel punto opposto simmetrico dell'orbe magno, avrò potuto misurare una parallasse su se stessa della stella che sta migrando verso l'alto. Ovviamente non era possibile con gli strumenti dell'epoca, ma per Galileo era decisivo perché effettivamente questa sarebbe stata la conferma che la Terra si muove di rotazione intorno al Sole. Di lì a poco, proprio contro le argomentazioni galileane che avevano avuto un così grande successo, viene pubblicato un libello, il libello è il discorso intorno alla nuova stella di Antonio Lorenzini da Montepunciano, dietro cui sicuramente c'era il grande aristotelico della scuola patavina, dello studio patavino, Cremonini, e Lorenzini proprio cerca di smontare l'argomentazione di Galileo dicendo che è impossibile che si sia generato qualcosa nel cielo dove non si genera nulla, fa una serie di digressioni sulla parallasse non capendo di che sta parlando, come succede spesso a chi vuole affrontare questioni scientifiche senza attrezzatura ancora oggi e alla fine si occupa anche con alcuni capitoli di quella che veniva chiamata astrologia giudiziaria dove si cerca di capire quali sono gli influssi di questi corpi celesti sul cambiamento delle stagioni, sulle attività umane, sciocchezze, bufale che però appunto erano contenute in questo primo libro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.